Allora, qui ci troviamo nella zona di Santa Chiara, a due passi da Spaccanapoli, da Piazza San Domenico Maggiore e qui ci sono i laboratori, i leggendari laboratori della pasticceria Scaturchio. Buongiorno, ciao! Ciao, caro Gino, come stai? Bene. Giacomuccio, come stai? Dai, ogni tanto lo sai, devo venirti a farti visita. Ah, qua che abbiamo le pastire. Eh, sempre le due pastore, perché qui siamo impegnati un attimo con le pastire. Tu hai vista la forma del babà Vesuvio, quello che stiamo facendo adesso? Vedi, questa è tutta fatta in rame, la stiamo provando, proprio perché è molto simpatica l'idea del genere di fare il babà Vesuvio in questo modo qua. Guarda invece che si fa, guarda che alcuni crede che si fanno fare, una pastire, guarda, è un'offesa. Questa è un'offesa a chi mangia la pastire. Ben cotta, come la fanno? No, senza grano e senza citro, praticamente è una pizza. Non è più una pastire tradizionale. Però la gente ormai è contenta di mangiarsi qui così, non ha più molto gusto. Qua guarda, si vede come la ricotta è viva, no? Perché quando cresce nel forno poi si spacca. La spaccatura è una cosa della pastire, deve esserci per forza. Ah, un buon segnale. No, io non la devo mangiare. Allora, la sfogliatella riccia e la sfogliatella frolla. Non mi puoi vietare di offrirmi una sfogliatella. Eh, sicuramente. Alcune cose è come la pizza. Non te la puoi inventare con la macchina, si devono fare in un certo modo. Stai in da parte.